Un momento, ci sono anche i fiori, quindi ci sono anche i fiori ovviamente per le prime tre donne, se vengono su le tre donne magari le prime tre del podio, ecco che l'atleta il Forest Team mette la maglia sociale, c'è anche Daniela, se vediamo ancora Daniela, ecco Daniela, anche lei mette la divisa ufficiale, se no qua scattano sanzioni, scusate per i fiori ma sembravo, sì sì salite, salite, c'è l'assenza. Un bellissimo podio per il frontonario di Bardolino, complimenti. In teoria sì.